Vittoria meritata per la Leonessa della Lucania, che al donato Curcio batte 4-1 un Manfredonia che resta sempre più giù in classifica. La squadra di Erleo ha sempre controllato la gara e Ioime non è dovuto quasi mai rincorrere agli straordinari, se non in qualche occasione. Un Picerno che ha riconfermato l'ottima prova fatta a Torre del Greco e il bollettino medico dice che la squadra del presidente Curcio è praticamente guarita da quelle cinque partite alternate tra qualche prestazione sotto Toro e zero vittorie. Con i tre punti i Melandrini scavalcano il Gravina salendo al sesso posto a 21 punti. Arleo da Filugia a Morra, in avanti insieme ai due Esposito, in mezzo al campo prova maiuscola di Conte Francese, alla sua partita numero 499. Al loro fianco Agresta, dietro Caponero, Embriola, Carrieri e Matinata, in porta alla sicurezza Ioime. Il primo fondo è degli ospiti con il tiro di Vattiero impreciso dopo due minuti. Al terzo splendido Morra sulla sinistra, palla per Agresta ed è provvidenziale l'intervento di Bagnara. Al quinto capitano Esposito per Caponero ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Al digiottesimo ospiti in avanti con Vattiero che guadagna un angolo, batte Poziello dalla destra, libero però Francese che lancia il capitano Esposito, ancora per Francese, palla per Caponero, fermato in fuorigioco. Al ventitresimo Carrieri dalla difesa lancia Agresta ma sembra sbagliata in questo caso la decisione del secondo assistente, Cipolletta, di sbandereare un fuorigioco. Al ventiseiesimo sulla destra Vattiero, cross e palla che attraversa tutta l'area, poi trotta, calce di poco fuori. Al trentesimo angolo di Agresta e Carrieri agganciato da dietro da De Giosa. Rigore netto e capitano Esposito però si fa ipnotizzare da Bagnara che respinge. Portiere del Manfredonia, bravo al trentaduesimo, ancora su Esposito dopo il tiro dal limite. Bagnara sbaglia però al trentasettesimo, non trattenendo la palla e regalando un angolo al picerno. Dalla sinistra batte Agresta ed è imperioso il colpo di testa di Imbriola che porta la Leannos in vantaggio. Al quarantatresimo la punizione di De Giosa non impensierisce Ioime che blocca. Dopo trenta secondi Roberto Esposito sulla destra in aria ha sui piedi la palla del raddoppio ma perde il tempo e Bagnara lo anticipa. Nel finale di tempo ci provi a raprire il match in Manfredonia ma senza fortuna. Nella ripresa al quinto Ioime blocca Sicuro su un corner ospite. Al settimo il tiro di Trotta viene ribattuto al limite, ripartenza del Picerno e sulla sinistra tiro di capitano Esposito che va di poco fuori. Conte giganteggia in mezzo al campo insieme a Francese e al quindicesimo Arleo richiama in panchina Morra inserendo Cosentino. Matinata al ventesimo chiude Sojoff e al venticinquesimo è debole il tiro di Trotta, blocca Ioime senza problemi. Al ventitresimo dentro Salcino per Caponero. E al ventinovesimo arriva il raddoppio. E' bravissimo francese a recuperare palla nel cerchio di centrocampo. Si fa a metà campo, arriva al limite e con un rasoterra di sinistro batte Bagnara. Picerno che gioca sul velluto e spinto dal supporto del pubblico del Curcio sigla la tirza rete. Capitano Esposito si rifà del penalti sbagliato battendo tu per tu Bagnara con un tocco morbido al trentanesimo. E' trissi per la squadra di Arleo ed è standing ovation meritata per il capitano Esposito che al trentatesimo lascia il posto a Cruz. E' Ioime dopo pochi secondi è bravissimo sul vatiero. Poi gioco fermo per un fallo di mano degli ospiti nell'area picernese. Al trentacinquesimo Cosentino non è preciso e ne approfitta Romano che recupera palla e con tiro preciso all'angolino appena entrato in aria batte Ioime. Picerno che però rialza subito la testa e al quarantaquattresimo con una punizione di francese dalla sinistra splendida fisse il risultato finale sul 4-1. Finisce tra gli applausi del Curcio per il Rosso-Blu che tornano così a vincere in casa. La squadra di Arleo infatti non vinceva dal 16 settembre quando contro la frattese finì 2-0, poi due pari e una sconfitta. Il Picerno con la seconda vittoria consecutive sale a 21 punti al sesso posto.